Partenza con il botto per la raccolta differenziata porta a porta nel comune di Navelli. Il servizio voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Federico e gestito dal Cogese è arrivata a quota 72,10% in un solo mese dall'avvio. Dati forniti dalla stessa società di gestione rappresentano un ottimo inizio per le utenze del centro montano. Un risultato incoraggiante che ci spinge a fare ancora meglio e raggiunto grazie al senso civico dei residenti che hanno messo in pratica le disposizioni per incentivare l'economia del riciclo. Questo è stato il commento del sindaco Paolo Federico a Navelli. La raccolta differenziata è iniziata il 15 maggio e senza tener conto dei 15 giorni del mese di giugno è già arrivata a questo importante traguardo. Inoltre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ingombranti i residenti possono recarsi nella vicina stazione ecologica di Capestrano che serve le utenze di molti altri comuni. La struttura si trova nella zona del tirassegno, resta aperta martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12, sabato anche nel pomeriggio dalle 14 alle 17. Inoltre per vestiti, borsi e abbigliamento non più utilizzati, sempre nel comune di Navelli, si può usare il contenitore umana installato in via San Girolomo. Questo è un modo per alimentare la filiera sostenibile e solidale.